Hanno preso il via presso il porto di Salerno i lavori di pre-dragaggio, una sorda di preparazione per lo scalo commerciale all'atteso e strategico intervento che segnerà la svolta nel futuro della più importante infrastruttura salernitana perché consentirà l'ingresso non solo di navi da crociera più grandi ma anche di imbarcazioni per il traffico merci. Il clou dei lavori quando arriverà alla draga per scavare fondali. La buona notizia è stata confermata questa mattina direttamente dal presidente dell'autorità di sistema portuale del Martirreno centrale Pietro Spirito che presso la stazione marittima di Salerno ha rivolto a tutto il mondo che rappresenta e tutela nel comune capoluogo la principale fonte di economia e di occupazione ovvero il porto di Salerno il suo augurio in occasione delle festività natalizie alla presenza anche del segretario generale Francesco Messineo. Sì abbiamo firmato il contratto la draga arriverà adesso in atto a tutte le procedure di avviamento del cantiere il cantiere è stato consegnato da metà gennaio e cominceranno i lavori di ragaggio. La prima fase dura fino alla metà del mese di aprile ed è previsto un quantitativo di ragaggio di un milione e 600 mila metri cubi dopodiché ci sarà la seconda fase del ragaggio che comincerà a novembre del 2020 per concludersi ad aprile del 2021 con una quantità omologa di un milione e 600 mila metri cubi. Con la prima fase ci sarà la possibilità dell'aprizione della navità crociera però io voglio sottolineare un punto il ragaggio viene fatto per tutte le progetti di traffico quindi anche per il traffico commerciale soprattutto per le navi portacontenitori per le navi delle materie prime quindi è un beneficio che va all'insieme delle attività del porto di Salerno. L'obiettivo come dicevamo è portare i fondali del porto di Salerno dall'attuale profondità di 6,4 metri ad una di 11 per consentire l'attracco di navi di lunghezza superiore ai 300 metri. Si è così il cantiere è stato formalmente consegnato in questo momento abbiamo due pontoni che stanno realizzando la pulizia del fondale marino per rimuovere tutti i rifiuti rottami che purtroppo sono molto presenti sul fondale e per consentire il lavoro della grande draga che arriverà a metà del mese di gennaio e quindi il lavoro stanno andando avanti come da programma. Ecco secondo questo programma quali saranno i tempi? I tempi sono che il lavoro sarà concluso questa prima fase entro fine marzo e ricordiamo che poi il dragaggio è diviso in due metà e quindi metà del lavoro sarà fatto quest'anno e metà l'anno prossimo è un fatto che ormai sappiamo da diverso tempo perché è una prescrizione del Ministero dell'Ambiente però ricordiamo sempre che già con il lavoro che è stato programmato per questo primo inverno si otterranno enormi benefici sia per il traffico commerciale e potrà essere messa pienamente in funzione questa stazione marittima perché garantiremo l'ormeggio utile il pescaggio utile per le grandi navi da crociera.